Una casa di riposo allestita del tutto abusivamente in un agriturismo con tanto di somministrazione di farmaci agli anziani ospiti senza che vi fosse controllo medico e con presenza di lavoratori in nero. A scoprire l'attività è stata la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Arezzo. I militari hanno effettuato l'ispezione nella struttura che si trova nelle campagne cortonesi assieme alla personale dell'Asla, nello specifico la Commissione Multidisciplinare di Vigilanza. Si occupa di vigilare sulle strutture però autorizzate al funzionamento oppure sottoposte a comunicazione di avvio ad attività che queste strutture abbiano tutti i requisiti professionali, strutturali e organizzativi per poter operare. Nel caso specifico però le forze dell'ordine spesso ci richiedono una consulenza andando con loro ad effettuare sopralluoghi in strutture che non rientrano tra quelle che sono autorizzate. L'RSA abusiva accoglieva 10 anziani in parte non autosufficienti dietro pagamento di una retta mensile sui 2000 euro ad assisterli personale che non sarebbe risultato né specializzato né abilitato a farlo. Venivano assistite alla stregua di quello che si dovrebbe fare invece in strutture autorizzate dove lì però è previsto dei requisiti di personale sia professionali che organizzativi. 4 le persone denunciate, si tratta del proprietario dell'immobile, risultato peraltro inedone ad accogliere quel tipo di attività e dei lavoratori dovranno rispondere di esercizio abusivo di professione. La struttura era un agriturismo e quindi non rientrava né un RSA né una comunità familiare, era un agriturismo. In relazione ai lavoratori nero, due dei tre presenti sarà l'Ispettorato del Lavoro ad irrogare le sanzioni previste. Le cose vanno fatte a norma di legge, le leggi ci sono, le leggi consentono anche di spaziare su alcune modalità e tipologie di strutture quindi si tratta semplicemente di rimanere nel perimetro delle norme regionali per poter essere tranquilli ed operare in sicurezza.